Bruno Martella, c'è ancora tanta amarezza per un derby che è finito con un risultato brutto e sicuramente immeritato. Sì, ha perso un'occasione importante, pure davanti al nostro pubblico. Prendere un gol al 91esimo, sul serio, è una mazzata, davvero. Ha trovato il jolly di tutto il campionato facendo quel tiro là. Pisa che comunque si è dimostrato vivo, aveva rimesso in piedi la partita, ha spinto tanto per cercare il successo. Pisa che cercherà riscatto a Perugia? Sì, abbiamo sfiorato diverse volte il gol, abbiamo sfruttato diverse occasioni, pure con me il secondo tempo, dove potevo tirare, non ho tirato. Paolo Rozzio e Napoli abbiamo sfiorato il gol una volta il primo tempo, una volta il secondo tempo. Ora si va a Perugia, sempre pensando che bisogna portare a casa i tre punti. Ponte Dera che comunque non è più una realtà, una sorpresa anzi, una realtà del campionato in testa, poi l'Aquila, altre squadre, il Frosinone, insomma il campionato si sta entrando nel vivo. Sì, il Ponte Dera secondo me pure perché è un gruppo unito già dall'anno scorso, da due anni, quindi si conoscono meglio. Pure l'Aquila ha mantenuto lo stesso organico dell'anno scorso, prendendo solamente qualche giocatore, però noi non vogliamo mai e andremo, come ho detto, a Perugia per i tre punti.